salve a tutti bentornati su polvere fumetti oggi non non è il classico video del del lunedì ma parliamo sempre comunque di acquisti in particolare a questo giro di acquisti manga perché qualche giorno fa avevo un po tiserato su su instagram che avevo messo le mani su ben tre serie manga incredibili imprescindibili impressionanti perché non si mette se non se non parli di manga e se non dici prima non vale niente nessuno ti caga è così lasciatemi fare questo piccolo sfogo da vecchio di merda ma ho trovato questi questi tre manga queste tre serie complete o quasi come vedrete in alcuni casi alcune che veramente volevo leggere volevo metterci le mie luride e sozze grinfie da veramente tanto tanto tempo in particolare due le avevo già cominciate una era quasi completa ma per un motivo per l'altro me la son persa e un'altra che invece è proprio questo mio mia piccola lacuna di quando questo questo piccolo polvere fumetti questo piccolo nicolò di 15 anni aveva iniziato un po a muovere i suoi primi passi nel nel mondo del fumetto il mondo in particolare del fumetto giapponese all'epoca rimasi un po come dire colpitissimo da questa serie che sebbene fosse molto molto vecchia rispetto insomma all'anno di uscita mi mi piace veramente veramente tantissimo tra l'altro sono tutte e tre delle serie che bene o male dovreste riuscire anche a recuperare tranquillamente in fumetteria libreria ma soprattutto anche su amazon come sempre se vi andasse di andare a spulciare alcune di queste serie voleste recuperare qualcosina anche voi di questi titoli troverete i link per poterlo fare in descrizione perché secondo me sono proprio tre perle una più una più bella dell'altra cominciamo con diciamo l'antipasto questa diciamo che è una serie che avevo visto all'uscita pubblicata da panini neanche tanto tempo fa forse un anno al massimo due anni fa se non mi ricordo male che mi intrigò abbastanza ma lasciai un po perdere ho lasciato un po correre così poi diciamo che vedendola un po in giro ma sai che forse era interessante sai che forse sarebbe bello almeno darci un po una una spulciata ed è arrivato il mio caro amico emanuele il buon doc che accompagno di luke comics di questo tridente di piombo che mi ha detto guarda la sto vendendo ti interessa così me l'ha tirata dietro insieme a un'altra delle due serie di cui parleremo dopo ho detto ma sai cosa al prezzo che me la stai facendo io non te posso proprio dire no e quindi mi sono portato a casa il batman manga di giro kuwata questa è l'edizione pubblicata da planet manga è un cofanetto contenente i tre volumi che compongono appunto questa serie serie scritta e disegnata da giro kuwata adesso vi faccio vedere anche i vari volumi questo è il primo poi ovviamente vi faccio anche un overview un pochino più più belle più carine questi sono il secondo e il terzo si si tratta di un manga che è uscito negli anni 60 in giappone quando impazzava la mania per per batman soprattutto grazie alla alla serie di adam west insomma quella serie super super comica un po anche improbabile che tra l'altro è fortemente in antitesi con quello che poi è diventato insomma batman nel corso degli anni ecco e fu una mania talmente tanto grande che arrivò addirittura nel paese del sollevante tanto da convincere gli stessi giapponesi a dire ok inventiamoci anche noi una nostra versione di batman acquisiamo i diritti appunto da dc comics per poter raccontare la nostra versione appunto del cavaliere del cavaliere oscuro del batman di casa dc comics e ne è venuta fuori appunto questa serie se non mi sbaglio furono delle storie uscite a cavallo tra il 66 e il 68 se non se non mi ricordo male tutte quante che riraccontano un po in una versione particolare diciamo pure così una versione ovviamente manga ma con una chiave anche piuttosto diversa insomma addirittura sfogliando vedo che le pagine anzi le vignette hanno proprio i numeri quindi probabilmente era anche un qualcosa un prodotto pensato per essere venduto anche al di fuori del del giappone per arrivare proprio ai grandi fan insomma di batman probabilmente anche in in america e ripercorre quelle che sono un po alcune delle diciamo gesta classiche insomma di batman delle sue classiche attività però mi sono un po informato visto che ci sono delle differenze per esempio la gran parte dei cattivi del personaggio insomma di batman non è presente addirittura proprio non esiste neanche il joker ecco che probabilmente era uno di quei personaggi che già all'epoca aveva già cominciato un po a a farsi vedere a bazzicare e probabilmente anche ad ottenere una certa una certa attenzione un certo successo insomma rispetto a tutti gli altri cattivi di batman in questo caso quelle che sono invece diciamo dei punti fissi a quanto capito oltre a esserci il il personaggio di di robin ci sono anche per esempio il commissario gordon dovrebbe esserci anche alfred se non mi ricordo male appunto tutto quanto coniugato in salsa manga è un'edizione questa che è stata anche curata se non mi sbaglio da cheap kid se non se non ricordo male voglio vedere se c'è qualche informazione qua ma non non riesco a trovare nulla al riguardo mi ricordo che appunto a questa edizione per quella che è uscita in in america ovviamente è stata supervisionata mi sembra da cheap kid però mi informerò un pochino se non sbaglio è anche autore di una serie di batman di una graphic novel di batman che si chiama death by design se non mi ricordo male c'è un momento di defiance anche qua però in post produzione poi ovviamente vi metterò tutte le varie indicazioni però appunto me l'ha emanuele me l'ha tirata dietro ho detto ma sai cosa ma sì io ci do ci do un po' un'occhiatina vediamo un po' com'è veramente me l'ha proprio non dico regalato però me l'ha proprio venduta l'ho pagata poco più del prezzo di un singolo volume ve lo dico proprio così fuori dai denti quindi è stato veramente mi sembrava veramente maleducato quasi dire di no a un amico è comunque un'edizione abbastanza carina diciamo sono dei volumi con bandelle diverse pagine a colori con tante illustrazioni tanti bellissimi frontespizzi in bicromia realizzati proprio da giro cuata che vengono riproposti all'interno del volume insomma ero molto molto curioso e emanuele appunto me l'ha proprio messo sotto il naso e ho detto ma sai cosa io non te posso dire no un po' perché ti voglio bene un po' perché sono curioso quindi ho detto va là me l'hai fatta sto giro me la prendo e me la porto a casa devo dire che l'unica cosa che non mi convince tantissimo è il cofanetto di panini mi sembra un po' un po' fragilino insomma però tutto sommato fa fa il suo lavoro anche le illustrazioni sopra devo dire che sono abbastanza abbastanza carine potrebbe fare anche la sua bella figura in libreria questo dovrebbe essere super disponibile quindi dovreste trovarlo tranquillamente ripeto in libreria fumetteria amazon e quant'altro quindi vi lascerò il link qua sotto qualora voleste anche voi allungare le vostre sozzemani su questa serie la seconda serie che mi sono recuperato è uno di quei rarissimi casi in cui un manga basato su uno sport si è riuscito a interessarmi al quanto e questa anche questa serie mi è stata venduta dal mio caro amico emanuele dal buon dal buon doc anche questa che ripeto esattamente come è stato per slam dunk che se bazzicate un po' ripeto questi lì di sapete che è letteralmente il manga sportivo da cui mi sono sentito totalmente gabbato proprio perché leggendolo mi sono veramente mi sono bevuto tutti i numeri che mi trovavo sottomano all'epoca quando lo conobbi per la prima volta ma 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 ci fu anche un'altra serie basata su un altro sport che da da ragazzo da ragazzino soprattutto mi mi colpi tantissimo un po' per il modo in cui riusciva a rendere appetibile rendere interessante e divertente e appassionante uno sport come è il football americano per qualcuno che proprio zero di qualsiasi cosa abbia che fare ripeto con lo sport sia soprattutto devo essere onesto per come era disegnata perché yusuke murata prima di essere conosciuto prima di essere tanto diventato celebre insomma per one punch man lui era già diventato in realtà grazie a high shield 21 di cui ho recuperato eccoli qua tutti i volumoni della complete edition esatto l'edizione che ha fatto di recente planini planet manga per riproporre per riportare appunto in fumetteria anche questo questo nuovo classico chiamiamolo pure così perché secondo me è un può essere considerato anche un po' un classico dello shonen ormai è un titolo che ha sulle sue spalle una una certa età insomma una certa dose di di anni e che appunto ha dato modo di lanciare yusuke murata in quello che è un po' il il pantheon diciamo dei fumettisti dei mangaka di moderni insomma più conosciuti apprezzati ripeto soprattutto grazie al successo di di one punch man che però prima aveva firmato insieme a rishiro e nagaki lo scrittore di questa serie appunto questo manga divertentissimo tutto quanto basato sul football americano è un fumetto ripeto splendido io recuperai praticamente ho quasi interamente anche tutta la prima edizione di panini di planet manga solo che non riuscì mai a completarla in toto mi mancano almeno una decina una quindicina di di volumi quindi a una certa mi sono detto boh cosa faccio investo cerco di recuperarmi quella poi è uscita questa edizione detto guarda prima o poi questa me la piglio tutta questa me la recupero tutta quanta ed è arrivato appunto il buon doc a dirmi guarda ma questa non è che mi interessa mica io la sto vendendo così ho detto senti dai dammi qua non ci penso troppo porta qua dai su 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 e ripeto sono molto molto contento perché sarà per me un'occasione proprio per rileggermi questo questo fumetto molto molto piacevole molto molto divertente soprattutto ripeto per via dei disegni ma anche per per come viene raccontato grazie anche ai suoi bellissimi personaggi per come viene raccontato proprio il mondo del del football americano in particolare mi ricordo che mi mi fece già ridere in partenza questa questa serie non solo perché è strapieno di citazioni a dragoball mi sembra che o comunque al lavoro di akira toriyama mi sembra che proprio nelle primissime pagine a un certo punto il nostro protagonista incontri due tizi che hanno su questi costumoni tipo i costumi da da parchi dei divertimenti dei due alieni quello verde quello giallo di di slampearale se non mi ricordo male dovrebbero essere proprio nelle nelle primissime pagine della della storia poi comunque vi vi andrò a ricercare anche queste queste pagine mi ricordo che rimasi anche colpitissimo in senso ironico e comico dal dal protagonista da come viene brutalmente reclutato insomma dai da questi ragazzi che vogliono esattamente come i personaggi di slam dunk arrivati all'ultimo anno del del liceo ecco vogliono ottenere questa loro rivalsa vogliono cercare di arrivare a competere con le squadre più importanti le squadre più più riconosciute insomma del football americano giapponese e ovviamente non solo e che vedono appunto in questo giovane ragazzino che ha questa particolarità e questa è una delle cose che mi faceva più 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 ridere in quasi nel leggere proprio questa serie che lui è diventato bravissimo a schivare i vari ostacoli i vari avversari quindi i tutti i line baker tutte le persone che arrivano a placcarlo nel tentativo di fermarlo mentre sta portando alla la palla alla meta perché era diventato bravo all'elementari a schivare le persone nei corridoi della scuola per cercare di portare la merendina le merende che i bulli gli scroccavano il più velocemente possibile per evitare le botte e questo è ciò che lo fa diventare poi questo mi sembra line baker proprio super famoso perché si si gioca di combatte insomma combatte ciao perché si presta alle partite gioca durante le partite con questo schermo che gli copre il viso per nascondere proprio la sua la sua identità durante appunto le partite ripeto è un fumetto divertentissimo che a mano a mano che procede raccoglie personaggi sempre più assurdi sempre più fuori di testa ricordo che i ruma il insomma un po il master of puppet dei demon devil bats che sono la squadra di protagonisti insomma di questo fumetto è proprio un pezzo di merda è uno che per reclutare i giocatori gli fa delle finte foto compromettenti e poi li minaccia di diffonderli qualora appunto questi non decidano di entrare nella squadra di football della scuola e poi via via allargandosi sempre di più includendo anche personaggi ancora più bislacchi personaggi che arrivano da altre parti del mondo da altre squadre era bellissimo per esempio come ogni squadra avesse una propria mascotte disegnate in questo formato molto molto cibi e che talvolta proprio combattessero tra di loro nel bel mezzo delle partite o come per esempio proprio le mosse i lanci le scivolate insomma tutto quello che avveniva durante le partite veniva raccontato come uno scontro di dragon ball con mosse con questi questi giganteschi quasi ologrammi come se fossero delle materializzazioni insomma di questi colpi mi ricordo per esempio la balista di una delle squadre questa qua che adesso non mi ricordo come come si chiama questa balista che serviva proprio a lanciare la palla ovale il più lontano possibile a sfondando letteralmente le linee nemiche per poter arrivare alla loro meta e segnare un punto a loro favore insomma è un fumetto fuori di testa è un fumetto bellissimo che finalmente di nuovo grazie a emanuele che me l'ha un po messa sotto il naso ho recuperato finalmente completo adesso mi piacerebbe trovare anche un po il tempo per potermelo rileggere per poter un po insomma ridivertirmi ancora una volta nel leggere questo questo gran gioiellino del fumetto giapponese del fumetto shonen che all'epoca ricordo che ebbe comunque un certo successo mi ricordo che comunque se non sbaglio vendeva anche abbastanza l'anime insomma non fu particolarmente apprezzato se un altro in italia ma ricordo che se ne parlava molto insomma di e di questo fumetto merito probabilmente proprio anche dei disegni di yusuke murata è una serie che esattamente nello stesso formato per esempio della yugioh complete edition non solo per il la fogliazione dei vari volumi questi non credo che contengano tre numeri come era per per quella di yugioh dovrebbe essere qualcosina di di qualcosina di meno se non sbaglio però insomma anche questa è super disponibile dovesse trovarla tranquillamente in in fumetteria quindi anche questa vi straconsiglio di recuperarla vi consiglio proprio di darci un'occhiata qualora siate un po magari prevenuti proprio su fumetti di questo tipo su fumetti che parlano di di sport perché soprattutto questo potrebbe essere proprio uno di quei casi in cui venite brutalmente smentiti e vi leggete un fumetto appassionante e super super divertente ultima ma non sicuramente per importanza anzi devo dire che per per importanza e per affetto nei miei confronti direi che questa è tra tutte e tre quella che sono stato più contento in assoluto di recuperare perché è una serie uscita nel 2010 grazie a j pop che all'epoca mi mi folgorò il cervello perché si trattava di una serie anche questa se non mi sbaglio circa degli anni 60 se non se non mi ricordo male firmata da uno dei maestri totali del fumetto giapponese uno di quelli che tra l'altro ha proprio preso alla radice quella che è la la scuola l'importanza insomma del fumetto giapponese da ripeto un autore come osamutezuka ha proprio è stato allievo diretto proprio di osamutezuka il suo nome è scolpito nella storia del fumetto giapponese se non mi sbaglio anche nella storia dei record mondiali perché questo autore che è shotari shinomori ha credo realizzato il maggior numero di pagine possibile immaginabile nella carriera proprio di un fumettista giapponese se non mi ricordo male dovrebbe essere proprio un qualcosa che fa parte proprio dei guinness world record e ripeto all'epoca mi mi folgorò purtroppo un po perché costicchiava un po tanto per le tasche di un ragazzino ripeto di 14 15 anni un po perché a lungo andare die di precedenza ad altre serie ma di recente mi sono trovato tra le mani la serie quasi completa a un prezzo che è stato allucinante veramente non sto a dirvi come l'ho recuperata come ho fatto ma al prezzo in cui a cui l'ho portata a casa è veramente un regalo purtroppo mancano già dei numeri mancano un paio di numeri ma ho visto che sono super disponibili posso tranquillamente recuperarli quando e come voglio sto parlando di questo gioiello qui che è cyborg 009 di shotaro ishinomori questa è la serie pubblicata da jpop è una serie che si compone di 27 volumi totali io possedevo già i primi sette numeri tra l'altro usciva anche in grazia jpop con questi cofanetti molto molto belli tutti giocati sul bianco e sull'oro che però purtroppo non non ho mai non ho mai comprato non ho mai recuperato però appunto adesso ho tutta quanta quasi perché mi mancano dei numeri vedo che mancano per esempio i numeri 22 23 e poi il 26 però ho controllato e sono tutti ripeto molto molto facili da recuperare firmata ripeto da un autore che ripeto è proprio il cui nome è scolpito nella storia del fumetto giapponese che qua racconta una storia splendida una storia che ripeto all'epoca mi mi piacque tantissimo e rimasi sorpreso soprattutto fu proprio forse è proprio il primo esempio di un manga così tanto datato che però mi mi piacque mi mi prese tantissimo e che ancora oggi devo dire esercita un certo fascino su su di me parliamo di questa storia in cui i protagonisti sono un gruppo di persone un gruppo di donne uomini che durante la fine se non mi ricordo male della seconda guerra mondiale vennero proprio rapiti e reclutati da questo progetto chiamato black ghost per venire sottoposti a una serie di esperimenti per essere trasformati in cyborg ognuno di loro arriva da parti del mondo diverso ognuno di loro arriva da un etnia completamente diversa l'una dall'altra anche da se non mi sbaglio estrazioni sociali completamente l'una diversa dall'altra ma tutti quanti vengono uniti per insomma servire questo scopo vedendo i loro corpi modificati ognuno con poteri diversi c'è chi è resistente a qualsiasi cosa c'è chi è super veloce c'è chi nasconde letteralmente un'arma in ogni singolo punto del proprio corpo c'è chi può cambiare forma c'è chi riesce a nuotare sott'acqua c'è chi è dotato di telepatia insomma hanno tutti questi poteri molto molto particolari che loro dovrebbero impiegare per appunto servire il volere di black ghost ma il loro animo umano quello che è il cuore fondamentalmente delle persone riesce comunque a abbattere ancora nonostante ripeto gli innesti cibernetici gli innesti di metallo per opporsi appunto alla black ghost e cercare di fare fondamentalmente del bene trovandosi a confrontare con avversari con altri cyborg addirittura con alieni se non mi sbaglio anche minacce che arrivano dal futuro insomma sono tutte quante delle storie una più fuori di testa dell'altra che se non mi sbaglio a poco a poco vanno anche un po a sviluppare quelli che sono i protagonisti proprio di questa serie e soprattutto anche quelle che sono un po le interazioni tra tra di loro facenti parte ripeto ognuno di loro di paesi storie culture completamente le une diverse dalle altre in un contesto come quello post seconda guerra mondiale piuttosto delicato anche per gli equilibri diciamo dell'equilibri diplomatici politici insomma del del mondo in tutto questo o shotari shinomori appunto riversa quello che è il suo amore probabilmente per la fantascienza probabilmente anche un amore che ha come dire maturato lavorando proprio insieme a osamutezu che insomma se conoscete un minimo il lavoro di shinomori vedrete proprio che quasi è una non dico una coppia carbone ma è molto molto simile come stile come tratto e come approccio proprio al lavoro del dio dei manga mettendoci dentro appunto tutto quello che sono anche una serie di messaggi molto molto importanti quali il rispetto per la natura l'insensatezza della guerra quanto l'essere umano faccia schifo ancora una volta arrivare proprio a rapire e a trasformare in armi dei suoi simili solo per poterli utilizzare proprio a scopo bellico insomma a denunciare razzismo a dare un messaggio di integrazione e di amore insomma sono dei personaggi che in qualche modo e maniera hanno anche contribuito un po a rafforzare quello che è diciamo il tema dei dei kamen rider ciao dei tokusatsu insomma dei personaggi stile power rangers insomma non a caso shotari shinomori se non mi ricordo male è diventato famoso per il manga di kamen rider appunto che nominavo prima sono ancora tra l'altro dei personaggi ancora oggi molto molto apprezzati molto molto come dire interessati anche al popolo giapponese infatti se non mi sbaglio a breve o dovrebbe essere già anche uscito arriverà anche al cinema anche in italia un film che contrapporrà proprio i cyber 009 contro devilman era un fumetto che ci tenevo veramente molto a recuperare tra l'altro quando sono stati in giappone ho voluto anche portarmi a casa questo piccolo ricordino dell'edizione del numero uno dell'edizione bunco proprio giapponese dei dei cyborg e finalmente adesso ce l'ho praticamente tutta per per potermela leggere questo è stato veramente un una piccola coccola ecco anche piccola insomma una bella coccola al al me 15enne insomma che finalmente potrà completare la lettura di questa splendida serie ebbene anche a sto giro il video acquisti siamo riusciti a farlo in maniera un po un po diversa dal dal solito però fatemi sapere se qualcuno di voi avesse già letto magari qualcuno di questi fumetti fatemi sapere un po cosa ne pensate se sono delle serie che a voi sono piaciute se sono delle serie che anche voi vorreste recuperare prima o poi mi raccomando i commenti sono sempre qua sotto a vostra disposizione per poterlo fare in descrizione ci sono i link per poter recuperare questi queste tre serie appunto anche su amazon vi ripeto bene o male sono tutte abbastanza recuperabili in maniera super super tranquilla proprio anche direttamente su amazon ma soprattutto in fumetteria e soprattutto se magari voleste recuperarli fate un salto alla nerderia di pavia se siete da queste parti come sempre se bazzicate qua e ve li facciamo trovare assolutamente e basta vi ricordo che in descrizione ci sono anche i link per arrivare ai miei contatti mi raccomando come sempre instagram è il social che cerco di utilizzare un pochino di più per espandere i miei gargarismi sul mondo del fumetto e basta io vi saluto vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video ciao bellissima